Sei una carogna, Brock. Come scusa? La tua foto è falsa. Parker, tu sei davvero un Boy Scout. Dai, cerca di capirmi. Vuoi il perdono? Prova in chiesa. Che cosa sta succedendo? Tutto bene, ragazzi. Sì, no, cioè, stavamo solo scherzando. Senti, ti supplico. Se mi fai questo, io perdo tutto quello che ho. Non mi assumerà più nessun giornale. Dovevi pensarci prima. Che cosa stai facendo, Peter? La dia al suo direttore. Gli dica di controllare la fonte la prossima volta. È falsa. Lo conferma la sezione fotografica dell'archivio di Stato. Prendi le tue cose e esci dal palazzo. Stavo solo... Sei licenziato! Adesso dovremmo pubblicare una rettifica. Erano vent'anni che non pubblicavo una rettifica. Licenziato il fotografo di Zonetto! Il giornale vede scusa Spider-Man! Sì, pronto? Mr. Parker, sono il dottor Connors. Ah, dottor Connors. Come sta? Interessante il reperto che mi ha lasciato, Parker. Chimicamente non è molto diverso dai meteoriti condritici degli anni 70. Grazie. Buono. Sai che le dico, Parker? Parker? Del latte. Amplifica le caratteristiche dell'organismo ospite. Dammi un altro biscotto. Specialmente l'aggressività. Potrebbe essere pericoloso. Peter non ne avrà tenuto dei pezzi. Ne hai con le noci? Eh, ho delle noci, te le posso fare? Sì, bravo. Peter? No, no, no. Certo che no. I tuoi lavori sono ottimi. Mi piacerebbe lavorare su di te. Su di me? Oh, Parker. Peter. Parker! Miss Brent! Non l'ho assunta per questa mansione. Spider-Man vestito di nero. Peter, un materiale incredibile. Queste dobbiamo averle, Jonah. Ti pago come al solito. Se vuole le foto, mi dia il posto fisso. A doppio stipendio. Ti pago come al solito. Grazie per la visione Grazie per la visione